Ciao a tutti, vediamo 5 segnali per capire se piace ad un uomo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono i segnali? Come fai a capire se piace realmente un uomo, se in realtà è soltanto un'infatuazione? Allora, dobbiamo tenere presente alcune situazioni particolari, alcuni fatti particolari che noi dobbiamo prestare attenzione a tutta una serie di segnali che sono comportamentali e non verbali. Meno, molto meno, ai segnali di natura verbale. Perché i segnali di natura verbale, la parte logico-verbale sottende a quella fallimentare, se vogliamo, non alla parte importante della nostra vita. Allora, quali sono questi 5 segnali che ti dicono, che ti fanno capire che piaci davvero ad un uomo? Allora, vediamo i segnali a livello non verbale. Allora, ogni volta che ti vede, quindi il primo è i segnali di gradimento, ogni volta che ti vede emette dei segnali di gradimento. I segnali di gradimento emotivo vanno dal mordicchiamento delle labbra, all'umidificazione delle labbra, a toccarsi le labbra, tutto quello che avviene attorno alle labbra. Poi ce ne sono anche altri, però questi diciamo che sono già segnali importanti per capire, quindi a livello non verbale, che questa persona è coinvolta con te. Sempre, secondo, segnale a livello non verbale, tende, diciamo, a voler creare rapporto nei tuoi confronti, quindi utilizza un comportamento che è, potremmo dire, un comportamento speculare, quindi emette un'immagine eco-speculare nei tuoi confronti, cioè ricalca i tuoi movimenti. Se tu stai in una certa posizione, lui naturalmente gli verrà da farti da specchio, rispecchiare la tua stessa posizione. Questo è il secondo segnale non verbale. Poi altro segnale, il terzo segnale non verbale importante, riguarda, diciamo, il puntamento dei piedi e lo sguardo. Cioè, il puntamento dei piedi significa che ogni volta che, diciamo, che è nelle tue vicinanze il piede è sempre puntato verso di te e questo puntamento, diciamo, avviene anche attraverso lo sguardo perché lui ti guarda, ad esempio a una festa, eccetera, quando tu non sei guardato, quindi va alla ricerca di tenerti sotto controllo. Questo è un segnale molto importante. Poi abbiamo dei segnali comportamentali. Primo segnale è che si mette a complementare le tue esigenze. Mettersi a complementare le tue esigenze significa che cerca in tutti i modi, ad esempio di starti vicino, di, diciamo, di assecondare un attimino quelle che sono le tue esigenze logico-razionali. Questo è un segnale molto importante da un punto di vista comportamentale e abbinato all'altro segnale comportamentale che per te è disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe. Questo è uno dei segnali più importanti. Quando noi siamo innamorati di una persona, per quella persona siamo veramente disposti a fare delle cose che normalmente non faremmo. e questo ci dà un'indicazione molto forte che quella persona, che noi siamo coinvolti con quella persona. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!